Rinviata al 9 giugno 2020 la sentenza per Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni, i due giovani di Castiglion Fibocchi accusati di tentata violenza sessuale di gruppo su Martina Rossi, la studentessa ligure precipitata dal sesto piano dell'hotel Sant'Ana di Palma di Mallorca all'alba del 3 agosto 2011. L'udienza era stata infatti fissata per l'11 marzo, ma è stata posticipata in base al decreto legge che contiene le misure straordinarie ed urgenti per contenere il contagio dal coronavirus, con limitazioni che riguardano ovviamente anche l'attività giudiziaria. La presidente della Corte d'Appello di Firenze, Angela Annese, ha così depositato in cancelleria l'ordinanza che annulla l'udienza dell'11 marzo, fissando quella del prossimo giugno. I due imputati erano stati condannati in primo grado a sei anni di reclusione, tre per la tentata violenza sessuale di gruppo e tre per morte in conseguenza di altro delitto, reato già dichiarato prescritto. L'altra imputazione invece si prescriverà nel 2021, i termini comunque sono attualmente sospesi. Secondo la prima sentenza, Martina Rossi sarebbe volata giù cercando di sfuggire ad un tentativo di stupro da parte degli aretini, accusa respinta da entrambi gli imputati. Le difese hanno sempre sostenuto che la ragazza si sarebbe gettata volontariamente dal sesto piano dell'hotel. Per i due giovani, la procura generale aveva chiesto tre anni di reclusione, il prossimo 9 giugno la sentenza.